A trani nuovi ingressi nel movimento politico CON che nel Consiglio Comunale Cittadino passa da 3 a 9 rappresentanti. Venerdì sera la presentazione della nuova composizione che adesso può contare su Patrizia e Savino Coromio, Claudio Biancolillo, Vincenzo Topputo, Luigi Cirillo, Antonio Befano, Antonio Loconte, Beppe Corrado e Giuseppe Mastrototaro. A loro si aggiungono i tre assessori di rappresentanza, ovvero Leo Amoruso, Cecilia Di Lernia e Lucia De Mari. Oggi ci entriamo in un risultato importantissimo, come sapete passiamo nel Consiglio Comunale di Trani da 3 a 9, acquisendo 6 consiglieri comunali, diventiamo il primo gruppo in Consiglio e quindi ci attestiamo a contribuire nella guida di questa città. Chiaramente a Trani e nella BAT mi rivedrete insieme al Consiglio regionale Giuseppe Tuputi e al Falcone, il coordinatore provinciale, per la prima assemblea provinciale come abbiamo già fatto a Lecce e come stiamo facendo la settimana prossima a Taranto. Questo significa che CON è attrattivo. L'obiettivo di CON è adesso quello di affermarsi anche negli altri comuni della provincia BAT e non solo il coordinamento politico. Si unisce alle proposte che verranno formulate all'interno dell'assise tranese che si propone di fare da traino per l'intero territorio. Noi abbiamo degli amministratori che sanno quello che devono fare. È chiaro che nella misura in cui noi possiamo dare delle idee vincenti per migliorare delle cose, lo faremo. Per quanto riguarda gli assetti amministrativi non è nostra intenzione mettere in discussione la leadership del sindaco Bottaro, anzi abbiamo detto dall'inizio che avremmo collaborato fino all'ultimo giorno della sua amministrazione.